Ciao a tutti! Oggi prepareremo le uova strapazzate con taleggio, speck e pane tostato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono olio evo, speck tagliata a listerelle, uova, latte, sale, pepe, taleggio tagliata a cubetti e fette di pane tostato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e lo speck. E' di azionare il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il latte, le uova, il sale e il pepe. Ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 3. Cuocere per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il taleggio e proseguire la cottura per 5 minuti, 100 gradi, velocità 2. Impiattare e servire con il pane tostato. Uova strapazzate con taleggio, speck e pane tostato. Grazie e alla prossima ricetta.